Il Consiglio regionale ha ospitato l'inaugurazione di Election Days, workshop di alta formazione nel campo della comunicazione politica e della strategia elettorale. Il corso, promosso e organizzato dal corso di laurea magistrale in comunicazione pubblica e politica dell'Università di Torino e da Quorum Utrend, ha visto la partecipazione di 60 studenti di diverse nazionalità. L'Università è impegnata in primo piano in questa cosa, perché uno dei compiti fondamentali dell'Università a questo punto è formare i giovani anche alle professioni, soprattutto dare loro strumenti affinché si possano cimentare subito quando escono dai loro corsi di laurea magistrale con il mercato del lavoro e con le nuove esigenze del mercato. Election Days è una formula assolutamente innovativa da questo punto di vista, perché ci consente di mettere insieme didattica, anche su un piano divertente per certi aspetti, il contesto ha questi aspetti di divertimento, con invece il mondo delle professioni e la conoscenza di tipo scientifico.